3 punti, ma soprattutto un gol che cercavi da tanto tempo. Eh sì, importanti i 3 punti in una partita così, l'abbiamo approcciata bene e alla fine è finita nel migliore dei modi. Io sono contento per i gol per le ultime settimane, ho sofferto tanto negli ultimi mesi e mi sto facendo trovare pronto. Speriamo di trovarti. Sì, sei stato decisivo contro il Portuguay, entrambi mettendo un assist, oggi quel gol, una corsa liberatoria. Cosa significa anche per te dal punto di vista personale? Era un po' che lo cercavo, perché comunque a livello mentale il gol ti dà tanto e come ho detto prima stavo soffrendo appunto per un periodo. e però comunque non ho mai mollato, anche grazie ai miei compagni. E oggi, vabbè, era una giornata un po' diversa, quindi mi sono lasciato andare, dai. Adesso la classifica diventa sempre più interessante. Dove potete arrivare? Dove sognate di arrivare? Ma noi andiamo avanti partita per partita. La classifica si fa sempre più interessante, però come ci diciamo sempre noi, guardiamo gara dopo gara. Adesso ce ne aspetta subito un'altra importante domenica prossima. Dobbiamo sempre dare il massimo in tutte le partite e per ora stiamo avendo un rullino importante, quindi speriamo di arrivare il più in alto possibile. Grazie a tutti.